Il Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni qua nei cuori, vieni cattore nei toni, luce nei cuori, luce nei cuori. C'è un caso, non so se lo sapete, forse non lo conoscete, trova bene lui, il Pentecoste, all'ultima faccia. Il ritornamento, vedete, l'ho trovato, no? L'ultima faccia, il Pentecoste, si sente un sogno nel cielo, questo è un bellissimo momento, mi raccomando. Grazie.